A Piazza Sacro Cuore, oggi a Pescara, una fiaccolata per ricordare che in Iran sta succedendo qualcosa di brutto, di terribile e che non basta ricordare solo, purtroppo, in occasione di morti come quelle della giovane di 22 anni ma di tante altre violenze che sono capitate. E allora per anche avvicinare forse la popolazione che sembra così distante, l'Italia, da quello che accade in Iran Shahed Shaole ha organizzato questa fiaccolata delle donne democratiche iraniane. Che cosa vuole raccontare alla città in questa manifestazione in cui tra l'altro ha coinvolto anche il comune con il sindaco Mashi? Allora, in primis veramente ringrazio il sindaco Mashi che durante il consiglio comunale quando ho chiesto, mi sono presentato questa richiesta di fiaccolata, è stata raccolta al volo. E allora, quello che sta succedendo in Iran non è novità, almeno per noi attivisti non è novità. Le cose nuove che finalmente, dopo 44 anni, il mondo ha sentito il dolore, il sofferenza e atrocità di questo regime contro il proprio popolo. Questo è per prima volta e ha sentito che la richiesta del popolo iraniano non è semplicemente di andare avanti e di sentire che chiedono proprio rovesciamento totale di questo regime. Loro escono per strada dicendo che noi non abbiamo niente da perdere, allora, meglio combattere per un futuro migliore per i nostri fili, per il futuro dell'Iran. Questa rivolta è stata, come dire, fatta nascere anche grazie alle donne, ma non è una rivolta estetica, non si tratta di avere un capello fuori posto sotto al velo o di mettere... E' proprio, quello è un simbolo in realtà, anche se i peli vengono poi bruciati per le strade, ma è una libertà di vita. Guarda, in Iran repressione prevalentemente sono sulle donne. Le donne sono i primi, i principali obiettivi, diciamo, di questa rivolta, perché per 40 anni sotto questo regime disumano, misogina, un misoginia istituzionale che per 40 anni, 44 anni, per tutto questo tempo, proprio sulle donne. Perciò, sì, le donne sono in prima fila, ma loro chiedono il minimo principio di libertà. Riusciamo a, in qualche modo, a far capire anche a chi vive qui, in Italia, che bisogna stare al fianco di chi lotta lì? Noi ci proviamo a sentire queste parole, veramente fa venire i brividi, perché noi siamo a fianco al popolo iraniano, che oggi sta soffrendo e sta combattendo per la sua libertà. Siamo a fianco ai giovani, che vogliono avere una vita normale. Siamo a fianco alle donne, che vengono trattate come schiave. Siamo a fianco a coloro che soffrono. Purtroppo abbiamo avuto morti. E' incredibile quello che sta succedendo. E noi vogliamo gridare con forza che siamo a fianco al popolo iraniano. E io mi auro che l'Italia sia sensibile a queste parole, perché deve esserlo. Perché noi, 80 anni fa, combattevamo per la nostra libertà. Quindi la libertà non è mai una cosa certa.